Siamo orgogliosi di te. Siamo tutti orgogliosi di te. Bravo. Con una laurea in lettere sarà più difficile aiutarti ad entrare in fabbrica. Papà, questa è la tua vita, non la mia. Io voglio fare musica. Allora, diventiamo maestre. E se non ce la faccio? Anna! Come ti chiami? Si rimetterà in fretta, Franco. Grazie. Ci voglio parlare, papà. Una storia che tocca il cuore. Bentornato, papà. Questa sera alle 21.20. Rai 3.